la festa dei nonni, tanti gli eventi per sottolineare l'importanza del loro ruolo in famiglia e nella società. Tra briscole e bocce a Roma la prima edizione delle nonniadi. Sentiamo Nazaro Basili. Anziani e bambini si sono sfidati nello sport per poi prendersi per mano per guardare insieme al futuro. L'occasione le prime nonniadi, la festa dei nonni che si è tenuta al parco tutti insieme nella capitale. Iniziativa promossa dalle ACLI di Roma e provincia e la federazione anziani e pensionati in collaborazione con la nazionale Cantanti si inserisce nell'ambito della seconda edizione dell'ottobrata sociale. Nella famiglia abbiamo due soggetti sociali molto importanti, gli anziani che custodiscono le tradizioni e la sapienza e i giovani che sono leali verso il futuro. Spesso uno aiuta l'altro ma c'è bisogno proprio di momenti come questo per ricordare che gli anziani non possono essere lasciati soli e che gli anziani hanno un valore significativo per tutta la società. L'evento ha aperto la settimana della famiglia promossa dal centro per la pastorale familiare del vicariato di Roma. Direi un grande segno di speranza anche in un momento di crisi che tante famiglie stanno attraversando e poi una bella testimonianza di solidarietà e di unione tra le generazioni perché vedere nonni e nipoti che giocano insieme e vedere questo clima bello di famiglia fa bene a tutti, fa bene al bene comune. Momento clou della giornata è stato l'arrivo della fiaccola accesa da Papa Francesco durante l'ultima udienza generale. Tedoforo d'eccezione è stato Abdon Pamic, medaglia d'oro nella maratona alle Olimpiadi di Tokyo. L'appuntamento è stato anche occasione per ricordare la partita che la nazionale cantanti e protezione civile giocheranno a Rieti martedì prossimo per aiutare le popolazioni terremotate. Vicini al territorio, vicini a voi.